... Ogni volta che faccio una cazzata, mi va sempre tutto storto. E ne ho fatte tante. Almeno ti sei divertita? ... Se posso essere sincera? Sì, sì, sì. Sono uscita con il ragazzo che ha soccorso Monica. L'ho appena conosciuto. Io non... Non ci riuscirei mai a fare una cosa del genere. Cioè, ogni volta per fare una cosa ci metto un mese e poi... Comunque non la faccio. Sempre così rigida. Vorrei cambiare un po'. Sono rimasta sola da qualche giorno ed è... Difficile. Ti sei lasciata? Beh, se non andava hai fatto bene. Lavori, sei indipendente, puoi scegliere. Mica come me. Con il mio lavoro, anzi che dico, con il mio non lavoro. Oggi un'attrice di talento non campa in questo paese. Veramente è stato lui a scegliere. Io ci sarei rimasta tutta la vita. Stavo... Bene. Mi manca molto. Mi dispiace. Non lo so, è come se... Come se mi mancasse una parte di me adesso. Massimo è sposato. Pensavo fosse... L'uomo giusto. Ho amato la follia. Poi... Aspetta, aspetta. Ho rafforzato la mia solitudine. Ma con il algo. Oui. Ma...